Questo è il momento dell'insostenibile pesantezza dell'uomo, ecosostenibilità e rispetto dell'ambiente, il peso del metabolismo sociale ed economico sull'ecosfera agli albori del terzo millennio. Conversazione di Gianni Colacione con Luca Pardi, componente del CNR e vicepresidente di Aspo Italia. Quindi chiamiamo immediatamente prima Luca Pardi e anche lo stesso Gianni Colacione che dovrebbe rispondermi. Ciao Luca, ci sei? Pronto Luca? Vediamo se Luca mi sente. Luca mi senti? Luca è in collegamento però non mi risponde. Intanto c'è Gianni. Ciao Gianni, mi senti? Io sì, tu? Sì, ti sento perfettamente. Luca lo vedo però non so se mi sente perché io provo a parlare ma non mi risponde. Io vedo che puoi la bocca, presumo che stia parlando, quindi non lo sentiamo noi. Sì, ha dei problemi con il microfono. Allora, proviamo a dargli in diretta. Intanto poi tagliamo questa parte ragazzi, però questa è tv radicale. Allora, dovresti verificare il tuo microfono Luca. Allora, controlla un attimo, hai Windows giusto? Hai Windows, perfetto. Allora, dovresti andare su Strumenti, Opzioni, Configurazione Audio. E a quel punto dovresti vedere se, dove dice microfono, quando tu parli si muove il LED luminoso in verde. Purtroppo non ti sentiamo Luca. Ora mi sentite. Oh, adesso ti sentiamo perfettamente. Sì, perché non so come mai va su una stupida cosa di Bluetooth. Non capisco come mai, vabbè, insomma. Adesso ti sentiamo perfettamente. Vediamo anche in primissimo piano. Con cattiveria Gianni fa vedere la sua maglietta. Eccolo qua. Perché io sono invidiosissimo, caro Luca, del fatto che Gianni sia già in possesso della maglietta di tv radicale e io ancora non ce l'ho. Ci sarà da fare incetta al congresso di queste magliette che sono scoriche. Bene, ragazzi, io vi lascio la linea. Sono le 20.15, quindi mezz'ora di conduzione fino alle 20.45. Buona conduzione e a te la parola Gianni. D'accordo, allora grazie ancora e grazie ancora di tutti coloro che ci stanno seguendo. In qualche modo che mi sopporteranno ancora per qualche minuto. Ringraziamo ovviamente Luca Parti di questo contributo. E la tematica che andiamo a trattare oggi, ovviamente, è una tematica, diciamo, di base. È una tematica importante per l'attività di rientro dolce e poi insomma anche di quelle che sono stati poi gli sviluppi successivi con il congresso. Ma insomma si parla del peso antropico sul pianeta, sulla sostenibilità di questo peso e delle prospettive che ci sono a livello ecologico. Abbiamo messo gli albori del terzo millennio, ovviamente, perché ovviamente questa è una cosa che è stata presa in considerazione come problema abbastanza di recente. E quindi sentiamo Luca Parti come appunto ci introduce a questo argomento. Poi appunto se ci sarà un attimo vorrei magari esportare anche quello che è il mio pensiero e la mia visione su questa cosa. A te Luca la parola. Va bene, volentieri. Ma la questione parte sicuramente su delle considerazioni su come su questo pianeta è cresciuta la popolazione umana. Noi siamo una specie particolarmente prolifica. Ma il problema non è soltanto il fatto di fare molti figli, ma è il fatto di avere un certo successo ecologico. E questo è sicuramente dovuto alla capacità che l'uomo ha di manipolare il proprio ambiente. Fatto sta che la popolazione umana è, partendo da quello che si sa, partendo dal continente africano, si è mossa in tutto il pianeta e ha occupato praticamente qualsiasi nicchia ecologica. E ogni volta che si è spostata da una zona a un'altra ha creato degli sconquassi ecologici. Quindi non è soltanto l'uomo moderno, l'uomo successivo che nasce dalla rivoluzione industriale, che ha creato dei problemi. Per esempio si pensa che la grande estinzione della megafauna di mammiferi che vi fu nel continente americano intorno a 10.000 anni fa sia dovuta proprio al fatto che nei millenni precedenti la specie umana aveva superato lo stretto di Bering e aveva cominciato a colonizzare quel doppio continente, sia l'America del Nord che l'America del Sud. Quindi diciamo che è una specie particolarmente aggressiva che si porta dietro anche altre specie. C'è un dato che io generalmente presento come esemplificativo di questa condizione della specie umana che è quello che raccoglie i dati sulle biomasse degli animali che noi chiamiamo vertebrati, che sono essenzialmente mammiferi, pesci, uccelli, rettili, anfibi. Cioè la maggior parte degli animali che vediamo, a parte si vedono anche gli insetti, ma comunque esclusi gli insetti, esclusi i crostacei, i molluschi, essenzialmente gli animali, quelli che a volte si chiamano animali superiori, quelli più al culmine dell'evoluzione, anche se questa è un'affermazione che sicuramente gli biologi evoluzionisti contesterebbero. Comunque la biomassa dei vertebrati è essenzialmente divisa in percentuali che dal punto di vista dei numeri sono secondo me straordinari e sicuramente esemplificativi della situazione di stress in cui l'uomo ha messo gli ecosistemi terrestri. Essenzialmente la biomassa dei vertebrati terrestri è così divisa. Il 21% sono i vertebrati marini, cioè i pesci e i cetacei, che sono praticamente gli unici vertebrati marini. Poi il 51%, quindi il 21% i vertebrati marini. Il 51%, cioè la maggioranza, sono i vertebrati domestici, cioè gli animali domestici dell'uomo. Ovini, bovini, suini e altri animali domestici, pollame, queste cose qui. Il 26% è la singola specie Homo sapiens e poi il 2%, o forse un pochino meno, sono i vertebrati terrestri selvatici. Cioè voi dentro a questo 2% ci mettete gli elefanti, gli ipopotami, le giraffe, i coccodrilli, i serpenti, eccetera. Questo è un dato che io ripeto ossessivamente da tantissimi anni, i compagni di Rientro Dolce ogni volta che lo dico vomitano gli angoli perché mi hanno sentito un miliardo di volte. Però questo è un dato che indica, che fotografa la situazione attuale. Naturalmente questa situazione non è una situazione che dura da millenni. In realtà è una situazione che si è venuta a determinare a partire dal XIX secolo. In modo crescente, la popolazione, in modo straordinario, la popolazione umana è cresciuta dalla fine del 7% e questo è sicuramente un effetto della rivoluzione industriale. E' sicuramente anche un effetto della scoperta dei combustibili fossili. Essenzialmente la specie umana ha avuto bisogno dell'intera storia biologica che è dell'ordine delle centinaia di migliaia di anni. Per raggiungere una popolazione di un miliardo sulla Terra, teniamo conto che 10 mila anni fa eravamo circa 5 milioni, corrispondenti a una popolazione già abbastanza elevata di primati del nostro tipo, di primati superiori come i nostri cugini scimpanzeo e bonobo. Quindi 10 mila anni fa eravamo circa 5 miliardi. La popolazione è rimasta abbastanza stabile, ma è sempre stata crescente, tanto che si stima che intorno all'anno della nascita di Cristo o della morte, non mi ricordo mai qual è lo zero, no, è la nascita, avanti che allo zero eravamo circa su qualche centinaia di milioni, insomma a seconda delle stime basse o alte, si valuta intorno a 200 milioni, su tutta la Terra. Poi la popolazione è sempre andata crescendo, però con un tasso di crescita relativamente contenuto, che poi ha visto invece l'esplosione, con alterne vicende naturalmente, la peste nera con il crollo demografico eccetera, ha visto un'esplosione a partire dal 1800, il raggiungimento del primo miliardo, quindi un'intera vita biologica di una specie per raggiungere il primo miliardo nel 1800, poi 130 anni circa per raggiungere il secondo miliardo nel 1930 e poi via via i tempi si sono accorciati con una crescita che si può definire tranquillamente iper esponenziale, perché il tasso andava sempre aumentando, poi il tasso di crescita della popolazione si è stabilizzato, ma la popolazione cresce ancora, tanto che appunto è notizia ormai ricorrente di questi giorni, perché quest'anno nel 2011 raggiungeremo il settimo miliardo, dopo che nel 2000 avevamo raggiunto il sesto. Quindi sono circa 11-12 anni il tempo di aggiunta di un nuovo miliardo. Questa è la situazione demografica della specie umana, non è soltanto la popolazione naturalmente, c'è gli altri componenti della sostenibilità che sono caratterizzati appunto dal consumo di risorse e dalla saturazione degli ecosistemi con i cascami delle nostre attività. Questo essenzialmente si traduce in una impronta dell'uomo sulla terra che misurata attraverso diversi parametri è comunque sempre fonte di allarme. Io credo che su questo punto, se le persone che si occupano di ecologia umana facessero lo sforzo di comunicare correttamente i numeri e i risultati delle loro ricerche, io credo che ci sarebbe una concordanza quasi totale sul fatto che la specie umana ha un'impronta su questo pianeta che non solo supera quella di qualsiasi altra specie, ma che sta creando delle condizioni in cui molto probabilmente non abbiamo avanti a noi tempi biblici per vedere degli effetti anche abbastanza drammatici della non sostenibilità del nostro metabolismo sociale ed economico. Io credo che manchi dal punto di vista delle scienze naturali la capacità di comunicare in maniera efficace questo dato. Forse è anche per questo che io sono diventato via via sempre più ossessivo su questo aspetto, perché mi rendo conto che non si riesce a sfondare il muro della indifferenza e dove non si riesce a sfondare? Non si riesce a sfondare nella parte di società che è più importante, cioè nelle classi dirigenti che non si rendono conto, non registrano la drammaticità della situazione, non sono ricettive rispetto al problema per mille motivi che non sto qui a analizzare e che forse non sono nemmeno in grado di analizzare. Però è un dato di fatto che le classi dirigenti, e qui non metto soltanto i politici, io ci includo anche le classi dirigenti culturali, religiose, economiche, quindi gli imprenditori e tutto, non si rendono conto che siamo in una fase di precollasso della nostra specie e che la nostra specie è in una situazione che se si stesse guardando una qualsiasi altra specie animale nel suo habitat, noi diremmo che è in condizioni di overshoot ecologico, cioè ha superato la capacità di carico dell'ecosistema che la sostiene. Questo purtroppo è una situazione che non viene registrata, semplicemente non viene registrata. La cosa che si registra sono degli effetti periferici di questa situazione, di cui per esempio la crisi economica è secondo me una delle manifestazioni, e non si capisce che il sottostante solido, chimico, fisico, biologico è la situazione di overshoot ecologico della specie umana. Noi di Rientro Dolce abbiamo infatti dato nome al nostro bollettino, fin da ormai un paio d'anni, anche se esce con scarsa regolarità, speriamo che ora nel futuro le cose migliorino, l'abbiamo chiamato proprio overshoot, perché alla fine poi cercare sempre di tradurre le cose non è sempre efficace. Overshoot alla fine se si riesce a far passare il termine, come passano tantissimi termini nel marketing della lingua, avremo già un buon risultato. Di overshoot non è che non se ne parla, ma se ne parla tuttora in circoli che io considero ristrettissimi. Perfino il partito radicale che è stato esposto alla continua comunicazione su questo tema qui è abbastanza impermeabile alla comprensione di questo fenomeno, che è un fenomeno in corso e che secondo me determinerà gli eventi dei prossimi decenni molto di più di quanto possano determinarlo. mi dispiace di apparire forse un pochino presuntuoso quello che è, mi dispiace che al tempo stesso non me ne importa nulla. Molto di più di eventi che considero sostanzialmente marginali, come quelli di cui si sente parlare continuamente, incluso la morte di Gheddafi, non è che non mi abbia colpito, però è un fenomeno che sicuramente, come il 90% delle cose di cui si parla sui quotidiani, è sostanzialmente marginale. Purtroppo non si parla di cose molto importanti, poi quando uno dice io ho una cosa molto importante, viene immediatamente accusato di essere in qualche modo un assolutista, di essere anche poco democratico, perché lui ha la cosa più importante degli altri e io mi rendo conto che questo è anche vero, però è anche vero che quando uno si sente di avere in mano un'informazione essenziale per i propri simili, sarebbe anche, secondo me, irresponsabile non tirarla fuori. Certo Luca, se mi permette di interrompere un attimo, perché stiamo parlando di informazione, allora da Stefano Bilotti ci viene una domanda sulla chat, come tu sai, TV Radicale è interattiva e dalla chat si pongono domande in diretta. Allora, Stefano Bilotti ti pone questa domanda, è possibile che ci siano due specie, una Homo Informaticus che diffonde le informazioni e lavora in rete informandosi, e una Homo Sapiens che arriveranno a un conflitto per il da farsi sul pianeta? Ma io, dunque, se è una, immagino che sia una parabola dei Bilotti, perché le specie, diciamo, si caratterizzano, diciamo, sicuramente, se è una specie, sono due specie che si stanno allontanando, diciamo, anche biologicamente, ancora sono interfecondi, quindi se te fai un figlio con una televisionara, mi rivolgo a Bilotti, oppure un'altra persona fa un figlio con uno che va in internet, diciamo che probabilmente nasce qualcuno, insomma, quindi non c'è ancora questa separazione. se parlassi di specie biologiche, è ovvio. Non erano specie biologiche, e sicuramente c'è una differente sensibilità in internet, in internet c'è anche un sacco di confusione, comunque, perché le posizioni più, se te cerchi, le posizioni più visceralmente contrarie alle nostre, e mi sto di nuovo rivolgendo a Stefano, è più facile che tu le trovi sui siti internet che alla televisione. Alla televisione, diciamo, alla televisione e sulla carta stampata, alla televisione e sulla carta stampata, grosso modo, al massimo, quello che trovi sono posizioni negazioniste sulla questione climatica, che ha una certa attenzione mediatica, ma le posizioni visceralmente contrarie, secondo me, per esempio, al controllo demografico, alla stabilizzazione della popolazione umana, te le trovi in internet. Quindi in internet c'è un po' di tutto, anche gli estremi. Quindi non so se ci sarà un conflitto. Io credo che il conflitto sarà molto più... dal punto di vista culturale, non so dove potremmo sfondare. È molto probabile, sicuramente, che internet fornisca dei canali come questo, per esempio, in cui abbiamo parola, mentre la carta stampata è sicuramente molto più irraggiungibile da questo punto di vista. Uno in internet uno spazio riesce a farselo, sulla carta stampata sembra quasi impossibile. Uno manda una lettera quando proprio ci sono le cose più assurde, tipo ultimamente c'è stata una specie di campagna, non so come chiamarla, una campagna natalista, essenzialmente, che è partita sulla stampa di Torino, in cui questi, insomma, proprio non si riesce a capire nemmeno come nascano certe convinzioni. Insomma, a un certo punto la popolazione sembra che abbiano rovesciato la logica, cioè se te sei ottimista fai figli, quindi per essere ottimisti bisogna fare figli. Essenzialmente questa è una delle risposte che il direttore della stampa dà fra l'altro a un nostro caro amico che ha risposto ad una precedente lettera natalista che parlava sempre di economia e demografia. L'Italia è in declino perché non fa più figli. Insomma, è questo nostro amico che non è nemmeno di rientro dolce, è un membro di Aspo, è un signore di Torino. Vogliamo dire che cos'è questa Aspo? Sì, Aspo è l'associazione per lo studio del picco del petrolio. Ne ho parlato l'altra volta quando parlai del picco del petrolio. e questo signore che si chiama Leonardo Libero aveva scritto sulla stampa una lettera in cui diceva che insomma questa storia che l'Italia è in declino perché non fa figli è un po' una bagianata che soprattutto sono gli altri paesi che dovrebbero imitare l'Italia nel caso nel fare pochi figli perché la popolazione è quello che è, la popolazione mondiale è già strabordante eccetera. E a questo l'unica cosa che è in grado di rispondere l'ineffabile direttore della stampa è che fare figli è un indice di ottimismo per il futuro e quindi se abbiamo speranza nel futuro dobbiamo fare figli insomma quindi essenzialmente quello che non capiscono è che la società deve invecchiare è normale che la società invecchi cioè se una società non invecchia la popolazione cresce non ci sono non ci sono vie di uscite da questo la 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 tutto si può dire tutto fuorché si può dire tutto fuorché sostenere che la popolazione si può stabilizzare tenendo una popolazione giovane perché questo non è tecnicamente possibile quindi Luca a meno che uno non ammazzi no scusa pensavo che si è finito no 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 va bene stavo stavo dicendo un'altra stavo aggiungendo stavo sottolineando la stessa cosa non c'è problema ah ok eh no vuoi ci sia un'altra domanda che ci viene da tale ferretti 26 26 non so se è l'anno di nascita ah quindi è ok del 1800 26 è nato mi sembra vabbè sarei stato onorato di avere tra quello che ci seguono anche persone nata nel 26 comunque il movimento occupi wall street è consapevole in alcune componenti dell'overshoot ecologico non solo finanziario come si mette rientrodolce nei confronti di questo movimento questo me lo dovete dire voi siete Stefano Bilotti che è il segretario e Guido Ferretti che è il presidente ditemelo voi io ho abbastanza simpatia nei confronti del occupi wall street ovviamente la mia simpatia nei confronti degli indignados che sono la versione europea è andata diminuendo in maniera drammatica da quando ho visto il trattamento che hanno riservato a a pannella anche se devo dire che pannella ha risposto nella maniera nella maniera più intelligente più non violenta dicendo che essenzialmente non sapevano quello che facevano però questo non sapere quello che facevano come ha spiegato anche Walter Vesceglio l'altro giorno in un editoriale su Radio Radicale è un non sapere quello che fanno da ormai da decenni se uno va a vedere se uno va a vedere le sparate contro i radicali degli anni 70 sembrano quelli degli anni 2000 e siamo sempre allo stesso livello forse perché è allo stesso livello la pessima informazione politica italiana ecco questo può anche darsi che sia quasi sicuramente la ragione però direi che riconosco in pieno il fatto che sia all'interno del movimento degli indignados di Occupy Wall Street c'è una notevole comprensione dell'aspetto ecologico della crisi cosa che evidentemente nel mainstream politico è completamente assente e purtroppo anche un pochino nel mainstream politico radicale anche se a questo punto io so già che il compagno amico Marco Cappato mi direbbe con sorrisino sulle labbra che non esiste un mainstream radicale e quindi a questo sistema tutte le questioni comunque effettivamente diciamo che non esiste un mainstream diciamo che rientro dolce con la mia lunga inutile segreteria non è riuscito a mettere il problema seriamente nell'agenda dei radicali ecco questo lo posso dire senti Luca io prima che finissi con il tempo vorrei farti sapere come la penso un pochino su questa cosa così poi facciamo un confronto e mi dici se sto probabilmente pure io un po' fuori dal mondo o meno io su questo problema dell'antropizzazione eccessiva la vedrei secondo me le possibili soluzioni sono queste sono tre cose che bisognerebbe fare prima di tutto l'informazione di a livello diciamo di igiene sessuale ok insomma evitare al massimo di avere figli in modo inconsapevole senza aver ragionato insomma aver in qualche modo parliamo appunto delle carità anzi indesiderate ma non non neanche nel fenomeno italico appunto ovviamente il fenomeno a livello mondiale paesi che sono più o meno dove sono meno accessibili le informazioni sanitarie dove ci sono retroterra culturali difficili problemi religiosi e così via questa è la prima cosa che bisognerebbe fare poi bisognerebbe ovviamente riparametrare un pochino anche l'utilizzo delle risorse energetiche ma anche alimentari e anche dell'acqua perché secondo me al di là degli scenari pauperistici che non per carità che non rincorro il fatto che noi possiamo avere 4 o 5 metri cubi di acqua nei paesi civili e sprecarne poi fatalmente chissà quanta mentre in altri paesi ne hanno a disposizione a volte 10 litri per un giorno ma forse neanche quelli è una cosa che secondo me non è umanamente sostenibile e un'altra cosa che secondo me è molto importante è che tanto il fatto che ovviamente c'è questa esplosione democratica che è uno stato di fatto perché insomma non è che si può che si possa negare io penso che oggi sul pianeta non si possa più non sia più sostenibile non sia più ragionevole che ci siano molto estese zone in cui in cui non ci sta popolazione stanziale cioè tutte quelle zone che sono state spontaneamente e marginate dalla possibilità di essere residenza per esseri umani perché sono diciamo in ospitali perché non c'è l'acqua perché ci sta il freddo perché per vari motivi secondo me oggi sarebbe necessario renderle renderle più appetibili secondo me tecnicamente la cosa è possibile per esempio per quanto riguarda l'acqua Israele insomma ci può insegnare come si rende un giardino anche il deserto ovviamente tutto deve essere riparametrato anche appunto nell'utilizzo delle risorse e quindi di fare in maniera che ovviamente in prospettiva ampia la popolazione mondiale si possa distribuire sul pianeta perché ovviamente distribuendo si riduce il peso antropico su alcune zone che sono quelle urbane o comunque paesi che sono estremamente calcolando appunto il rapporto a chilometro quadrato con una popolazione veramente esorbitante un rapporto esorbitante si ridurrebbe il peso antropico su quelle zone che poi fatalmente sono quelle che sono più per esempio pensiamo alla Cina ecologicamente devastate perché non si riesce ad avere un rapporto tra individui e il territorio in cui si sta che sia sostenibile ecologicamente dimmi cosa pensi di questo mio blaterare no dunque io ora delle cose che hai detto per prime quello ci sarebbe per ognuno delle questioni che hai toccato dalla della questione della natalità quindi del controllo della natalità degli anticoncezionali dell'empowerment delle donne eccetera ci sarebbe trasmissioni da fare solo per quello quindi lasciamo prendere lo stesso sulla questione delle risorse rinnovabili e non rinnovabili dell'energia dell'acqua della pesca del cibo eccetera ti voglio rispondere sulla tua ultima cosa forse la più originale diciamo sì che la cosa non so che l'hai mai sentita prima non avevo mai sentito dire prima no io non sono d'accordo o comunque diciamo che la ridimensionerei in questi termini ci sono due aspetti il primo è che in realtà l'uomo deve preservare alcune zone che sono quelle che sono state definite le rimanenze del selvaggio perché sono essenziali per il funzionamento dell'ecosistema l'ecosistema non è una cosa diciamo un supporto neutro ma è una struttura vivente c'è un bellissimo libro che sto leggendo in questo momento che descrive l'evoluzione delle piante sulla terra e spiega come le piante insieme agli animali plasmino abbiano plasmato letteralmente il pianeta e creando condizioni che sono che sono necessarie per la vita di tutti quindi andare a urbanizzare o occupare spazi diciamo con dei criteri ovviamente moderni io sto parlando anche per esempio di orti che sono all'interno di aree urbane all'interno di alcuni grattacieli coltivati a piani cioè voglio dire una cosa con ovviamente risorse energetiche che si basano sul solare nei luoghi per esempio desertici acqua utilizzata con un'agricoltura moderna che non faccia innaffiamenti diciamo come li conosciamo come li vediamo nelle nostre campagne ma con dei sistemi moderni per esempio in Israele insomma tutto estremamente ben studiato il fatto di continuare a rincorrere l'idea di preservare panorami e zone incontaminate a scapito del fatto che appunto in qualche modo bisogna abitare da qualche parte e quindi zone urbane che sono e ambiti che sono antropizzati a livello insostenibile eccezionale crea poi alla fine un rapporto diciamo sconveniente per tutti perché il mare della Cina che è assolutamente non è fuori manco più se sia liquido lì è un danno per tutti in questo senso dico l'area Città del Messico che è assolutamente putrida è un male per tutti a livello globale insomma ecco questo voglio dire sì sì ma sono d'accordo certamente l'insieme infatti l'applicazione delle tecnologie appropriate è la parola d'ordine che il movimento ecologista ha sempre portato avanti non si è mai parlato di lotta la tecnologia si è sempre parlato di tecnologie appropriate e di tecnologie non appropriate quello che dicevo io è che si deve contemperare la necessità di rendere sostenibile la vita umana su questo pianeta preservando anche delle zone selvagge quindi io eviterei che so io di andare a occupare l'amazonia più di quanto si è occupata beh l'amazonia no ma il deserto del sara si non è il deserto del sara comunque occupare il deserto del sara bisogna andare a vedere che cosa è stato fatto per esempio nei deserti le città cresciute nel deserto negli stati uniti dove i deserti ci sono sono città estremamente energivore anche è vero che sono nate in un periodo di petrolio facile quindi tutto era semplice però una città come las vegas è una città che è destinata a morire ad essere abbandonata e che non mi fa nessuna cosa perché è una città orribile però noi siamo abituati a una città che hanno un migliaio d'anni minimo di storia è chiaro che quando si è abituati al bello al bello ecologico al variabile ecologico mari monti eccetera al bello storico artistico insomma abbiamo un parametro diciamo che non può essere un parametro siamo un po' esigenti comunque va bene la selva delle insegne di las vegas è brutta oggettivamente in tutti i tempi anche per loro anche per fino per loro lo è no ma comunque ora prescindere da questo andare a abitare zone che sono inabitabili è un grosso problema insomma l'hanno fatto nei tempi però le densità di popolazione non possono essere estremamente elevate uno può si immaginare certamente di sfruttare l'energia solare però non è che uno può creare dal nulla il cibo insomma per esempio la limitazione dell'acqua è una limitazione che è difficile da è difficile da da governare in qualche modo quindi io insomma io ho qualche scetticismo poi se ne può parlare no no sì ma sei anche quello io perché ero sulla possibilità ero mosso a questa cosa perché c'erano più c'è una cosa che non poi c'è bisognerebbe cioè è una cosa che detta in ambito radicale diventa scottante perché come ce la mandi sta gente laggiù i cinesi come li levi da 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 il discorso è questo secondo me è insostenibile pensare che si possa bloccare la natalità in qualche modo e fare il famoso rientro dolce di cui si parla perché pannella credo che abbia coniato questa questa terminologia credo adesso non so penso più che altro di rientrare penso che sia una cosa obiettivamente insostenibile un po' come pretende Berlusconi l'amnistia ecco parliamoci di e allora io penso questo siccome siamo in un momento in cui ci sono i famosi paesi emergenti che poi sono già emersi e la la praticamente popolazione in qualche modo cresceva in un numero in un con un fattore diciamo tra virgolette ridotto nella misura in cui questi avevano una mortalità elevata e in prospettiva non possiamo pensare che la mortalità non diminuisca di questi paesi perché ovviamente leggiamo oggi questi giorni che pare che in un arco di dieci anni dovrebbe essere debellata la malaria e con quello anche altre malattie oltretutto nei paesi già emersi occidentali anche noi combattiamo contro le malattie che sono quelle che facevano la selezione naturale e che rendevano bassa la popolazione negli anni scorsi quindi stiamo parlando di bacini dove presumibilmente ragionevolmente prevedibilmente la mortalità diminuirà tutta l'Africa tutto il Sud America insomma l'Asia non ne parliamo e quindi l'idea appunto del rientro dolce così come lo pensiamo semplicemente con la politica della appunto della diffusione anche della come ho detto prima della maternità cosciente consapevole e così via non penso che da solo possa essere raggiunto io sinceramente a meno che non accada qualche epidemia di qualche malattia nuova che devasti la popolazione come succedeva una volta e come succedeva e le popolazioni nei vari stati cioè come la peste facevano delle falcidiavo la popolazione presente ecco io non penso sia raggiungibile e allora come sempre penso che alla radicale bisognerebbe governare il fenomeno con le risorse che si hanno prospettare un nuovo sistema ovviamente di utilizzo e sfruttamento del territorio devastarlo ovviamente il meno possibile certo l'Amazzonia non è che possiamo fare una città dell'Amazzonia però ci sono delle aree che sono secondo me sfruttabili con dei nuovi sistemi ovviamente non possiamo più permetterci a mio parere di avere i panorami incontaminati perché spontaneamente le persone sono andate dove era più favorevole vivere chiaro che non è che si può deportare la gente però per esempio io ho letto da qualche parte che c'è anche l'idea di progetto della creazione di isole marine dove vivere a livello dei luoghi grandi da creare proprio nel mare che sappiamo che la terra è coperta dal mare per i tre quarti se il problema è di spazio bisogna razionalizzare e vedere un po' tutto questo spazio intero non soltanto gli spazi più ospitali degli spazi già ridotti di terra emerse nel pianeta ecco era questo qua il discorso e soprattutto pensare che da sola la popolazione non si denatalizza insomma anzi va al contrario perché la diffusione di antibiotici vaccini eccetera io devo dire sinceramente dico per fortuna non muoio io per un'influenza o una qualsiasi cosa e non deve morire neanche l'ultimo cristiano che sta in mezzo l'africa sì ma sai dalla l'effetto sicuramente c'è un effetto sulla riduzione della mortalità della medicina però molto dipende dagli stili di vita quindi fino a che c'è stato un miglioramento delle condizioni di vita generali con case più sane alimentazione più completa e tutto quello è stato la cosa più importante io ho l'impressione che la questione di rimente sarà quanta energia abbiamo per 7 8 9 miliardi di persone e quanto cibo possiamo fare con i terreni fertili che abbiamo perché il terreno fertile non lo crei capito il terreno fertile ha bisogno di tempo il terreno fertile ha bisogno di millenni per crearsi noi con il petrolio abbiamo essenzialmente sfruttato i terreni fertili come se fossero risorse rinnovabili ma sono risorse lentamente rinnovabili e solo sui terreni fertili viene prodotto il cibo il cibo non lo produci nel deserto lo produci nel deserto se ci metti i fertilizzanti sul supporto sabbioso ma quando ti viene a mancare l'energia non hai più nemmeno i fertilizzanti o comunque i fertilizzanti costano sempre di più quindi non è che noi cioè si fa una su codesta tv radicale fate una trasmissione che si chiama che si intitola non ci sono pasti gratis che è di economia ma allora facciamo una trasmissione in cui non ci sono pasti gratis ed è di ecologia perché il non ci sono pasti gratis viene dall'ecologia nessun pasti gratis con Alessandro Massali che ha avuto dei problemi non è stato introdisciato a me mi fa molto ne ha fatto molto piacere vedere questa cosa però la non ci sono pasti gratis è una è una legge ecologica tipicamente e non si può creare terreno fertile dal nulla non si possono non si possono sintetizzare i pesci in fabbrica anche se si allevano bisogna dargli da mangiare e bisogna dargli da mangiare delle cose che loro digeriscono, quindi sia l'allevamento degli animali, sia l'agricoltura pone dei limiti alla popolazione che può dare, non è solo una questione di spazio, se no si ritorna alla questione che diceva l'Homberg nel suo infame libro, l'ambientalista scettico che la popolazione umana continua a stare tutta rinchiusa, non mi ricordo in quale città del Texas e lasciare tutto il mondo libero e questo che cosa significa? Comunque per quella popolazione lì rinchiusa nella città di Austin in Texas o qualche altra città che non ricordo, o di Houston non me lo ricordo, il fatto sta che quella popolazione lì ha bisogno di un certo numero di calorie per persona e quelle calorie vengono dal cibo e quel cibo lì viene dalla terra e la terra non è produttiva dappertutto nello stesso modo, assolutamente no, le terre fertili sono soltanto in certe aree e in certe situazioni ecologiche specifiche e il terreno fertile non si crea con la chimica, il terreno fertile si crea attraverso un processo ecologico ben conosciuto che è appunto la formazione dei suoli e questi suoli sono indispensabili per sostenere la popolazione umana, quindi non è che uno può comunque andare anche a abitare in mezzo al deserto del Sahara, però dal deserto del Sahara in condizioni di per esempio limitazioni di flusso energetico comunque le zucchine gli dovrebbero venire da una zona fertile, questo è quello che voglio dire, bisogna misurarsi con il limite sul fatto che non ci sono pasti gratis, soprattutto in ecologia prima che in in economia, anzi credo che il fatto che non ci sono pasti gratis in economia dipende dal fatto che non ci sono pasti gratis in ecologia, una volta per tutte queste due sono due discipline che andrebbero unite, l'unica cosa che ha detto giusta, che io condivisi della lunga e triste storia di Pecoraro Scanio alla guida dell'ecologismo politico italiano è che quando andarono al governo lui disse noi chiederemo il ministero dell'economia, poi naturalmente non ce lo daranno però come manifestazione di principio effettivamente non esiste il ministero dell'ambiente che si occupa della foca monaca e del parco nazionale di non so dove, il ministero dell'ambiente dovrebbe essere il ministero dell'economia, questa è una cosa che sicuramente sarà considerata da estremisti. Ci sta una domanda che sfiora questa tematica che ti faccio, la fa Darietto, sempre dalla chat viene, allora ti chiede la riconversione dal modello di consumo a quello di sostenibilità e subordinata ad una questione di interessi, secondo Pardi come possiamo uscire da questa condizione? Ci vuole una rivoluzione, ci vuole una rivoluzione che io credo che sia una situazione già rivoluzionaria e l'unica cosa è che quello che dovrebbe caratterizzare il partito radicale è l'idea di una rivoluzione non violenta, perché sicuramente ci saranno dei conflitti grossissimi che dovranno essere in qualche modo risolti e io sinceramente vi dico una cosa, ha l'idea di una eco-dittatura così istintivamente, questo lo dico istintivamente, di una eco-dittatura sostenibile a cui tante persone pensano apertamente, è una dittatura di qualche tecnocrate o di qualche gruppo di tecnocrati che stabiliscono quello che è giusto per l'umanità, io preferisco il collasso, sinceramente preferisco il collasso, perché io l'idea dell'eco-dittatura proprio come di una dittatura in generale mi ripugna, quindi francamente l'unica cosa che mi auguro è che ci sia una rivoluzione, cioè un cambiamento di paradigma rivoluzionario proprio nella conduzione dell'economia, nella conduzione del metabolismo sociale economico umano, che la gente capisca che è più importante avere tempo libero che lavorare ininterrottamente, che la produttività non è poi così importante, che la competitività dei mercati sui mercati non è poi così importante e che è molto più importante avere un ambiente vivibile e dare un futuro ai propri figli. Ma secondo te l'interesse economico è così incompatibile con la sostenibilità e l'ecologia? Al momento sì, perché il sistema economico si basa su un assunto imprescindibile che è la crescita, la crescita materiale, non ci nascondiamo dietro il dito dello sviluppo, chiamando lo sviluppo in cui c'è la cosa, avete visto benissimo che la finanziarizzazione è una grandissima strozzata diciamolo pure, penso si possa dire, è una televisione. Ah beh sì sì, è stato sdoganato questo termine. Tutta la questione dell'economia, ma poi lo vedete, chiunque parli oggi di come uscire dal problema del debito parla di crescita e parlare di crescita significa che devi far crescere il prodotto interno lordo. Allora questo, io non è che dico che l'obiettivo deve essere il contrario di far crescere il prodotto interno lordo, l'obiettivo deve essere quello di non contare il prodotto interno lordo come un parametro di benessere, perché non lo hai più. Anche questo è un dato di cui a un certo punto bisogna prendere atto. La crescita del prodotto interno lordo non è più crescita del benessere delle società. Ma ci sono più di una teoria economica che ormai non individuano più lo sviluppo della crescita economica? Allora se si parla di questo, ultimamente ho letto, io non sono un economista, quindi non faccio finta di sapere cose che non so, però cerco di documentarmi più di quanto sull'ambiente si documentino gli economisti, devo dire perché gli economisti sono assolutamente pieni della propria disciplina senza considerare minimamente quelle degli altri. Allora io ho letto ultimamente questo libro di Tim Jackson che fra l'altro viene dall'area governativa inglese anche britannica e ha scritto questo libro La Prosperità senza crescita, in cui proprio propone addirittura una nuova macroeconomia, un nuovo modo di contabilizzare i risultati dell'attività economica di un paese. In cui si tenga conto del fatto che se io vado a sbattere contro una macchina, ammazzo una persona, non può essere una cosa che va a aumentare il PIL perché ci guadagna quello delle pompe funebri, i due carrozzieri che rimettono a posto le macchine oppure le rottamano oppure ci guadagnano perché io mi ricomprerò una macchina, più l'avvocato che mi difende nella causa perché ho ammazzato quello. Tutte queste cose qui portano un aumento del PIL e sono crescita e che ovviamente è assurdo contarle come un fattore di benessere e lo sai perché? Non si potrebbe evitare questo perché se no allora l'industria dell'auto sarebbe subito immediatamente penalizzata perché l'industria dell'auto dell'ortopedia e delle pompe funebri. Sulle macchine bisognerebbe scriverci, viaggiare in macchina danneggia la salute, si sa quanti non so. Io non ho i numeri sotto mano ma comunque mi sembra che in Italia muoiano qualcosa come 2000 persone all'anno e sono comunque milioni di persone che tutti gli anni vengono ferite o riportano danni gravissimi da incidenti stradali. Questa è la crescita. Sì, lì stiamo proprio a livello di miopia molto sviluppata con il fatto di incentivarci come sempre sono decenni che così in Italia l'acquisto di macchine di autovetture in modo assolutamente dio perché non è sostenibile senza che per anni nessuno si sia mai interessato questa autovettura e poi a fine vita che fine facessero, quanto venisse ricicligato, quanto venisse in qualche modo riutilizzato ma anche il ritardo con cui siamo arrivati nelle marmitte catalitiche. Qui in Italia siamo di una miopia assolutamente assassina, suicida oserei dire. Il nostro territorio è completamente devastato in ogni sua parte dalla Sardegna dove nascono agnelli con due teste grazie all'inquinamento da uranio decaduto che sta nelle ogive, ci stanno i policoni di tiro, al mare di Taranto, ovunque la vienuta padana con le sue piogge che sono devastanti, insomma vedo che è arrivato Roberto per fortuna, se no qua facevamo mattina. Sì, è quasi un'ora e avevo detto che in mezz'ora siamo andati avanti con una discrizione per cui è stata meno pesa di quello che pensavo insomma. Va bene. Va bene Luca, io ti ringrazio ancora e ci rivediamo ovviamente su questi schermi con nuove tematiche, diciamo limitate a questo argomento. D'accordo quando volete ragazzi. Io vi saluto. D'accordo, grazie ancora. Grazie. Salute a Roberto e a tutti gli ascoltatori. Ciao Luca. Ciao. Bene, prendiamo la linea della Lecce, questo è il momento, scusate il ritardo naturalmente perché abbiamo avuto degli impedimenti tecnici diciamo così. E' geni potresti condurre te lo spazio...